Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Garcini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e un chilometro di coda tra Empoli Est e Ginestra in direzione Firenze. Per corsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. In direzione Pisa code sul BVA1-11 provenendo da Roma e da Bologna, in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est, rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia. In A1 si segnalano rallentamenti per il transito di trasporti eccezionali tra Barberino di Mugello e Aglio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio!